Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro area e benvenuti in questa nuova recensione attesissima me l'avete chiesto sotto ogni video ecco finalmente la recensione del primo dei due gamma ovvero gamma 1 in inizio è limitata per il film Dragon Ball Super Hero accompagnato da accessori per questo guan che poi andremo chiaramente ad inserire sulla figure ma vediamo la confezione ragazzi sempre la solita comunque per la linea Sage Figures direi di non perdere altro tempo se volete acquistare queste tante interaction figure le trovate disponibili sul mio sito era shop e link in descrizione ma andiamo a vedere fuori dalla confezione ed eccolo qui con tutti i suoi accessori come vedete sono tantissimi l'hanno fatto apposta naturalmente per far acquistare questo personaggio secondario mani per impugnare la pistola, mani a palmo disteso eccole qui, mani a palmo invece spalancato molto ben fatte poi abbiamo la pistola, eccola qui, zoomiamo un attimino di più così vi faccio vedere i dettaglini ben fatta, poi abbiamo braccia concerte, anche queste ben fatte poi abbiamo quattro test intercambiabili ovvero quella urlante con la bocca aperta questa qui invece con la bocca aperta con questa espressione si può dire sbigottita poi quest'altra con i denti stretti e quest'altra invece con viso serio vedete questa espressione forse abbastanza arrabbiata poi abbiamo testa intercambiabile per il nostro Gohan da Super Saiyan questa è veramente una bella chicca con questo colore molto chiaro dei capelli a me piace veramente tantissimo e questa testa ha ben due visi intercambiabili ovvero quell'urlante fatto veramente benissimo e questo qui a denti stretti potrebbero essere i migliori visi di Gohan mai fatti per la linea Sage Figures di Dragon Ball sono veramente perfetti, bellissimi naturalmente poi metteremo i pezzi sul nostro Gohan ma adesso andiamo a vedere il nostro Gamma 1 più nel dettaglio questo è il viso basi di cui è dotato con questa espressione, vedete, seria, diciamo, neutrale molto ben fatto questa è la tuta con questo colore giallo leggermente tendente all'arancio il numero 1 stampato qui sul petto il painting generale è ben fatto comunque non ci sono sfumature qui c'è la pistola del fodero che è articolato abbiamo questa cosa veramente assurda secondo me cioè la pistola si rimuove e non è una vera pistola ma ha questo peg e poi hanno dato una pistola secondaria io capisco che devi rispettare le proporzioni del fodero ma quanto ti costava, cosa ti costava farlo leggermente più grande così da inserire e togliere la pistola vera la pistola originale così da avere una sola pistola boh, cioè veramente risparmiano questi giapponesi su delle cose su cui non dovrebbero risparmiare e poi invece esagerano su delle cose su cui potrebbero risparmiare tranquillamente facendo la figura anche più figa con la pistola realmente estraibile io queste scelte veramente non le riesco a capire me le dovete spiegare voi perché forse non ci arrivo veramente comunque sì certo rendono un po' più pulita il fodero un po' più stretto però boh secondo me non ha nessun senso pantaloni ben fatti comunque stivali anche questi ben fatti lucidi su questo color blu molto scuro e il mantello ragazzi classica rigida a me non piace essenzialmente quando fanno i mantelli in plastica rigida però questo qui è ben posabile senz'altro secondo me dovrebbero adottare un materiale tipo questo vedete in plastica morbida nella parte superiore e inserire un pezzo di plastica dura all'interno del mantello in plastica morbida questo pezzo col peg così da poter inserire il mantello lo stesso col peg ma facendolo diventare più morbido secondo me è molto più figo sarebbe molto più figo non è una cosa così difficile da fare comunque dezoomiamo articolazione poi andiamo a montare i pezzi su Gohan testa in alto testa in basso ottimo movimento laterale incredibile anche del collo rotazione laterale piegamento del braccio ottimo rotazione a 160 gradi vediamo questa spallina che accompagna il braccio che tra l'altro è articolata col vecchio metodo a sfera sul retro che avevano i vari Goku della prima linea poi abbiamo Butterfly Joint veramente ottima la spallina chiaramente si può posizionare meglio per coprire il tutto poi abbiamo la rotazione al bicicletto piegamento doppio al gomito impressionante il migliore che abbiamo mai visto forse in vita mia piegamento del polso rotazione al polso piegamento ai busti in avanti piegamento all'indietro ottimi piegamento laterale rotazione al busto rotazione alla vita piegamento ulteriore alla vita in su e in giù quindi un piegamento totale veramente incredibile gonnellino in plastica morbida diviso in tre parti in realtà quattro perché c'è anche quella di dietro per non limitare chiaramente il movimento delle gambe che è ottimo gambe in avanti gamba all'indietro l'apertura laterale massima rotazione piegamento doppio al ginocchio anche questo molto ben fatto piegamento ai piedi in su piegamento ai piedi in giù rotazione in questo modo rotazione laterale anche in questo modo ottima piegamento alla punta del piede e il fodero anche è articolato misurazione dell'altezza la nostra figure alta praticamente 14 centimetri spaccato per 5 pollici e mezzo altezza quasi standard per le linee Sage Figures leggermente più bassa come vedete a confronto del Gohan a cui tra poco metteremo i pezzi da Super Saiyan ecco la confronto Spider-Man Marvel Legends il Batman McFarlane Toys e il Monezza Spider-Man che risultano dei giganti ed ecco il momento che stavamo tutti aspettando vediamo come sta la testa da Super Saiyan sul nostro Gohan eccolo qua ragazzi ebbe ebbe devo dire che è veramente veramente figa fantastico questo collo di capelli poi ci sta benissimo niente ragazzi questo gamma è da prendere per questo accessorio perché è veramente spettacolare forse più del 2 che ha il mantello un'altra testa per Gohan però questa testa Super Saiyan secondo me è da avere a tutti i costi vediamo anche chiaramente gli altri visi si smontano come al solito si smontano i capelli si smontano ah vedete queste ci hanno dei peg aggiuntivi per rendere ancora più solido il montaggio comunque vediamo come sta anche questo viso perdiamo qualche secondo in più per questo montaggio in diretta eccoci qua ebbe anche questo ragazzi fiero veramente bellissimo zoomiamolo ancora più nel dettaglio veramente spettacolare questo viso e già che ci siamo a sto punto vediamo come sta anche l'ultimo viso quello lì ha denti stretti ecco qua montiamo i capelli per bene oh ebbe anche questo devo dire realizzato veramente bene sono tutti e tre belli capita spesso che invece su qualche viso di quelli forniti calli un po' la qualità questi ragazzi sono uno meglio dell'altro veramente spettacolo oh ed eccoli sulla basetta rotante chiaramente il gohan l'ho messo solo per farlo vedere ancora meglio perché veramente fighissimo ma i voti andranno naturalmente a gamma 1 molto furba bandai ad includere questi accessori di gohan con questo personaggio che secondo me non si sarebbe filato nessuno e quindi però adesso invece c'è il motivo di acquistarlo l'avevamo visto in preordine ed è uscito fuori è uscito fuori in realtà però molto bene anche il personaggio stesso diamo i voti per quanto riguarda gli accessori e beh gli accessori sono da 9 da 9 pieno per quanto riguarda invece le articolazioni sono pazzesche ragazzi sono da 10 è articolato veramente in una maniera incredibile questa figure una delle migliori viste le articolazioni riguardo le articolazioni di questa linea dedicata a Dragon Ball per quanto riguarda l'estetica vabbè hanno fatto il compitino solito molto preciso tutte le stampe precise sfumature 0 l'8 l'8 se lo merita assolutamente perché non si può dire nulla però nulla di più nulla di incredibilmente eccezionale il voto finale per questa figure eh ragazzi è una figure in sé è una figure in realtà da 9 non si può dire altro è veramente praticamente perfetto articolazioni top accessori top estetica praticamente top ripeto però è un personaggio che non si sarebbe filato nessuno però hanno aggiunto gli accessori per govane quindi tanto di cappello la furbizia di Bandai non si può dire altro fatemi sapere cosa ne pensate di questa figure con un commento qui sotto se l'avete acquistata se avete in programma di acquistarla se non l'acquisterete per avere semplicemente gli accessori quindi discutiamole qui sotto nei commenti il like al video sarà bellissimo così come anche la condivisione noi ci vediamo alla prossima ciao da Ara da Gamma 1 e Gohan e collezionate sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti